Il palco per la premiazione, il signor Diego Palomba, in rappresentanza in questo caso dei cittadini, perché anche i cittadini, e dobbiamo prendere esempio da loro, Presidente Bagnale, tante volte veramente mettono in gioco la propria sicurezza per aiutarci. Diego Palomba, con la sua umanità, generosità e il suo altruismo è riuscito a rendere sostenibile la vita di alcune persone che si trovavano in uno stato di disagio personale.